Cosa ci fai qui? Stavo contemplando la mia inferiorità verso mio fratello. Capita a tutti, diventerò più forte. Voglio porre fine a questa guerra. Già, ho sempre amato Elisabeth e mi sbagliavo. Volevo diventare mio fratello. Io sono Meliodas! Ma che cazzo dici? Elisabeth, sei venuta a trovarmi? Cosa c'era in quel peccato? Droga? Ma cosa? Oh no, devo tenere la cacca. Devo rubare i comandamenti e battere mio fratello. Elisabeth, Elisabeth, Elisabeth! Va tu- C'è troppo rumore qui. Andiamo dove ci incontravamo in segreto. Impossibile, solo io e Meliodas conosciamo quel posto. Era il nostro segreto. Non sono cornuta! Te l'ho già detto. Sono io, Meliodas. Li unici a non ridere di me eravate tu e Meliodas. Ma tu guardavi solo lui. Quel bastardo mi ha mentito! I tre comandamenti che hai assorbito ti stanno provocando un rigetto. Sputa! Dissi a mio fratello cosa provavo per te. Organizzerò un matrimonio tra voi due. Cazzate. Lo ha detto! Piuttosto che farti portare via da lui ti ammazzo. Farò quello che vuoi. Non farlo, Elisabeth! Andrà tutto bene. Top cazzata 2020! Sariel è una donna? Il corpo che mi conteneva è cresciuto. Oh no! Però mi trovo meglio così. Tre teste sono meglio di una! E adesso andiamo a salvare Elisabeth. È il momento di aspettare la quarta stagione! Non la quinta come dice Netflix che non sa mettere in ordine le cose! Cos'è quello? La crisalide di Meliodas. E ora entriamoci. Protagonista un cazzo! Se cerchi un bell'anime da guardare lo sai Tra sangue e bianche orrore tu sai ti divertirai Ma tanto non c'è budget in Anna Tsou no Taizai E quindi preparati a Che cazzo è questo?